Entro due mesi si saprà se si realizzerà o meno la bretella coste casello. Dei 15 milioni di euro 5 sono già disponibili, gli altri 10 sono in fase di ricerca da parte di comune, regione e governo. Nel 2018 si ridurrà il numero di slot machine in Toscana e per puntare si dovrà utilizzare la tessera sanitaria. Queste fra le prese di posizione per il prossimo anno sul tema. A Montevarchi sulla questione dei giardini spinelli interviene Legambiente che boccia con un no secco la possibilità di costruire un edificio residenziale. Ritorna a galla la vicenda già approvata in consiglio comunale. Presentato dal comune di Montevarchi il programma del Natale 2017-2018 si partirà venerdì 1 dicembre per arrivare al 6 gennaio, accensione dell'albero domenica 3 dicembre, presto pronta anche la pista del ghiaccio. La comunicazione ai cittadini in caso di emergenza e l'uso corretto dei social media. Dalla Toscana un convegno organizzato a Firenze in queste ore e dalla regione in Palazzo del Pegaso. Ha creato il percorso della Grotta del Vento in Garfagnana, eccezionale esempio di carsismo sotterraneo Vittorio Vero Lebozzello, premiato con il gonfalone d'argento dal Consiglio regionale.